Ieri sera la consulta giovanile di Fiumefreddo di Sicilia è tornata a riunirsi per portare a compimento le attività in corso e discutere della programmazione dell'anno che vede terminare già il primo mese. Il presidente della consulta, Riccardo Bonanno, spiega ai nostri microfoni progetti in serbo per alcuni appuntamenti centrali per la cittadina. Oggi abbiamo iniziato a stampare e a imbustare le nuove carte giovani, così già da giovedì a partire dalle ore 9 possiamo distribuirle ai giovani che ne hanno fatto richiesta. Inoltre è un invito a chi ancora non ha fatto richiesta di recarsi dal protocollo a ritirare il modulo e a consegnarlo direttamente lì. Inoltre è possibile anche visualizzare la nostra pagina Facebook che è sempre in aggiornamento in cui metteremo nuovi avvisi, nuovi commercianti che aderiscono all'iniziativa e anche tutte le altre proposte che avremo durante questo periodo della consulta. Come programmazione imminente dobbiamo pensare se vogliamo fare qualche attività, qualche festa per il carnevale appunto per i giorni del paese, ma sicuramente andremo anche oltre il carnevale e penseremo ad attività culturali in collaborazione con l'assessorato all'istruzione e alla cultura e in biblioteca e poi anche una conferenza di battito per la festa della donna e anche delle attività più primaverili e per i ragazzi come i giochi della gioventù in collaborazione anche con la consulta dello sport presente nel nostro comune e poi anche la festa della creatività in collaborazione con l'istituto comprensivo Giovanni Verga e con l'assessorato sempre all'istruzione e alle politiche giovanili. In merito poi all'ascissione dell'assemblea consultiva del terzetto Cingari, Giuliano Dovara Bonanno commenta Oggi abbiamo saputo attraverso una determina sindacale che giorno 2 marzo a partita alle ore 9 ci saranno le nuove elezioni qua in sala del Consiglio in cui tutti i giovani appunto dai 16 ai 35 anni possono candidarsi e se votati a far parte della consulta giovanile per i prossimi due anni quindi aspettiamo questi nuovi giovani che hanno voglia di fare e spendersi per il proprio paese. Dopo 4 mesi dall'insediamento nostro della consulta siamo stati molto sorpresi dal ricevere questa lettera in data 28 dicembre appunto in cui i membri Giuliano, Cingari e Tamara si dimettevano dalla consulta per motivi che appunto hanno detto già anche in tv e noi abbiamo risposto in maniera molto semplice senza troppo rumore con una lettera indirizzata ai tre dimissionari in cui spieghiamo realmente la nostra versione la realtà dei fatti con appunto allegato tutti i verbali delle assemblee, del direttivo, delle commissioni in cui vieno proposte da noi sempre messe nell'ordine del giorno e soprattutto abbiamo allegato lo statuto che è quel documento a cui noi guardiamo attingiamo per qualsiasi tipo di informazione ufficiale dopo la loro lettera di dimissione e la nostra risposta non abbiamo ricevuto nessuna contro risposta e nemmeno non c'è stato nessun incontro con i tre dimissionari per chiarire questa situazione da loro creata grazie a tutti